Purtroppo è avvenuto un gravissimo incidente questa mattina presto, presumiamo attorno alle 4 del mattino e attualmente la Romea è nel caos totale. L'incidente è avvenuto all'altezza del distruttore IP prima dell'incrocio di Codevigo, c'è stato uno scontro tra un'automobile e una moto, purtroppo ci sono anche due morti, un uomo di Chioggia che guidava la moto, come potete vedere in immagine, totalmente distrutta e un altro a bordo della macchina che c'è stato il scontro. Non conosciamo la dinamica, in questo momento ci sono i rilievi, sono le 7 del mattino, la Romea è praticamente bloccata in quel punto da oltre un'ora e ci sono lunghissime code, eventuali aggiornamenti in seguito, se qualcun altro riesce a darci altre informazioni, al solito numero 348 39 11 959 tramite Whatsapp. Problema è tutto, purtroppo è un brutto inizio di giornata.